Tanta paura questa mattina per gli alunni a bordo di una scuola bus diretto verso una scuola ebolitana. I piccoli sono rimasti coinvolti in uno schianto sulla strada provinciale 417 a Versana, nei pressi della rotatoria in località Cioffi. Nel violento impatto contro l'auto, un Audi station wagon, andata poi a scontrarsi contro il guardrail, sono rimasti feriti tre bambini soccorsi da diverse ambulanze del 118 giunto tempestivamente sul posto. Nessuno, per fortuna, ha riportato gravi ferite.